L'MTS è il risultato di una grande passione, è nata per rendere i sogni concreti. Mi piace dirlo perché diamo la possibilità ai nostri ragazzi di intraprendere un percorso formativo d'eccellenza che li porterà poi a contatto diretto con le squadre e quindi faranno proprio della loro passione il loro futuro. Il risultato più importante raggiunto è che abbiamo l'80% di placement sul mercato del lavoro, quindi vuol dire che 8 studenti su 10 trovano lavoro nel motorsport. Per me la soddisfazione più grande è il fatto che ci sono alcuni ragazzi che sono arrivati in Formula 1, in MotoGP e nel Mondiale Rally. Hanno raggiunto l'eccellenza del motorsport. Credo che per un ragazzo che parte dal sogno di trovarsi al di là dello schermo televisivo, al posto di quei supereroi che fanno il pit stop in due secondi, e trovarci poi al loro posto penso che sia rendere concreto il sogno. Il mio sogno è vedere un giorno i paddock dei vari campionati italiani dove ogni team ha almeno un ragazzo dell'MTS.